Buongiorno, benvenuti. Questa è la segna stampa di oggi, 14 ottobre. Il tema fondamentale ancora su tutti quanti i giornali è evidentemente quello che sta succedendo sul nord della Siria o comunque qualcuno lo chiama il Kurdistan siriano, dove come sapete i turchi stanno avanzando e stanno avanzando senza fare grandi complimenti. Ieri c'è stato un evento simbolo in questa zona, è stata uccisa l'attivista dei diritti umani, una trentenne avrin in maniera spietata, si dice che siano stati degli jihadisti, però in realtà si accusano ovviamente i turchi e le sue falangi un po' più estreme di aver facilitato questo assassino. L'annunziata oggi scrive con mossa e per una volta condivisibile sulla stampa quello che sta succedendo in Turchia e poi ci sono una serie di considerazioni più politiche oltre a quelle umane. Beh, quelle politiche ve ne segnalo due o tre. La prima è dell'ex ministro Minniti che dice oggi in un'intervista alla stampa stiamo attenti perché questa roba della Turchia porterà alla riapertura della rotta balcanica e lì sono guai perché arriveranno oltre che dal Mediterraneo, dove arrivano nelle stagioni ovviamente calde di tranquillità del Mediterraneo, potranno arrivare anche da quella rotta lì diciamo a destra dell'Italia per essere facili dal punto di vista geografico, potrebbero arrivare altri milioni di immigrati. Biloslavo fa però forse il pezzo più interessante oggi sul giornale perché racconta, attraverso anche delle sue fonti militari, di come gli americani avessero chiesto almeno due volte agli italiani di fare una forza di interposizione, di cuscinetto proprio in quella zona e il ministro Trenta, ciao cara, e comunque l'amministrazione militare italiana assolutamente ha detto di no. Oggi siamo tutti qua a piangere ma nel frattempo, secondo la tesi di Biloslavo che è surrogata da fatti, fonti e informazioni che lui ha, noi saremmo potuti intervenire in Siria, anche perché poi siamo dei fenomeni, veramente è l'armata Brancaleone, la stessa Europa, perché alla fine dice armatevi e con chi? Chi è che ci va? Chi è che mette the boots in the camp? Chi è che rischia le vite umane dei militari italiani per aiutare i kurdi? Poi alla fine siamo dei fenomeni a piangere, pignocolare in televisione, poi è del tutto evidente che la nostra non è una società militare che voglia minimamente pensare di mettere i propri soldati a repentaglio, penso, immagino. Nel frattempo gli Stati Uniti completano la loro ritirata e invece i kurdi fanno l'unica cosa che possono fare, cioè l'alleanza con i russi e con Assad, che altro avrebbero mai potuto fare. Sulla manovra è alto mare, questa sera a Quarta Repubblica cercheremo di avere i dettagli sulla manovra perché entro stanotte e mezzanotte dobbiamo mandare la manovra in Europa e in questa manovra c'è un gigantesco vulnus, 7 miliardi di recupero dell'evasione fiscale che è una specie di libro dei sogni a cui nessuno crede. Politicamente cosa c'è successo? Ve l'elenco come l'ho letta sui giornali, Di Maio contro Renzi perché Renzi vollebbe abolire quota 100 e Di Maio dice non voglio più essere dati. Nel frattempo però c'è Conte contro Di Maio perché il Presidente del Consiglio dice a Di Maio, troppo timido sul Corriere della Sera di oggi, troppo timido nella lotta agli evasori e sui contanti, scusatemi, troppo timido, sui contanti dice Conte a Di Maio. Non contenti? Invece Di Maio presse il PD, sapete su che cosa? Sulle manette agli evasori secondo quanto dice il Fatto Quotidiano. Oggi Claudio Tito su Repubblica la dice meglio di tutti quanti perché dice il governo è paralizzato sia in politica economica sia in politica estera e sono avvolti in un velo autoassolutorio dell'antisalvinismo. Un governo che è nato contro Salvini quindi va tutto bene, se continuano a essere antisalviniani questo governo va bene, c'è da dire che però questa legge di bilancio fa schifo. Legge di bilancio è lo specchio del deficit dell'intesa tra PD e Movimento 5 Stelle. Il colpo di scena della giornata è Carlo De Benedetti, 84 anni, si vuole riprendere la Repubblica, l'Espresso, i giornali locali e le radio che funzionano benissimo, radio DJ e compagnia cantante. Il problema è che vuol pagare 29 milioni come spiega oggi bene Marcello Zacche per riprendersi tutta la baracca. Per la verità la baracca oggi vale poco perché tutta quella baracca che si chiama Jedi, di cui De Benedetti figli attraverso la Cir, quindi Marco e Rodolfo, è un terzo figlio che conta poco perché mi sembra che faccia il medico in Svizzera, questa baraccona editoriale è controllata dalla Cir, si chiama Jedi questa baraccona, è controllata da Cir che sono i figli di De Benedetti insieme agli Agnelli insieme a Perrone. Cosa vuol fare quel fenomeno dell'ingegnere? Vuol fare un acquisto del 29% di questa roba qui e comandare pure e comprarla a quattro soldi e i figli dicono ciao papà, non gliela vogliono dare al 29,9% a 0,25 centesimi per azione perché in questa maniera Carlo De Benedetti si riporterebbe tutta la baracca a casa a un prezzo di 38 milioni di euro. Però è molto divertente questa saga familiare, il non detto di Zacche, espresso molto chiaramente oggi sul giornale, è che in realtà i figli vogliono vendere l'espresso e Repubblica e l'ingegnere invece vuole mantenerla a casa sua perché ovviamente gli serve come grimaldello politico. Riguardo ai giornalisti io mi chiedo una cosa, toc toc, indignati della minchia, quelli che piangete se dicono qualche cosa a Gad Lerner quando va alla festa della Lega col suo sorrisetto che se lo potrebbe togliere, quelli che piangono quando vengono aggrediti, giustamente piangono, i giornalisti da Salvini, aggrediti verbalmente, non aggrediti altro. Ecco, dove cavolo sono questi fenomeni quando un giornalista delle Iene, Filippo Rona, viene aggredito da quelle merde, merde, perché chi aggredisce con un pugno e uno sputo è una merda, in qualsiasi campo, sia che sia di destra, che sia di sinistra, sia che sia un grillino. Dove erano tutti questi benpensanti quando ieri hanno aggredito Filippo Roma delle Iene alla manifestazione dei Grillini? Non mi sembra che ci siano gli appelli oggi sui giornali, non mi sembra che oggi ci siano i fondi indignati, il popolo del Movimento 5 Stelle, invece il fondo indignato lo dico io perché li ho visti anche nei miei confronti. Ce n'è uno che mi ha scritto che mi vuole spaccare, non mi dico che cosa, ma più di uno che mi dicono. Allora, quando i giornalisti sono dei giornalisti aggrediti verbalmente dalla Lega, dal centrodestra, sono degli eroi. Quando invece sono aggrediti dal Movimento 5 Stelle, zitti e muti, non ne parla nessuno, quando sono aggrediti dai black bloc neanche ne parliamo, neanche una riga. Due interviste che contano oggi per chiudere la questione di Filippo Roma a cui do tutta la mia solidarietà che non danno tutti gli altri categori di giornalisti, nessuno, zitti e muti su Filippo Roma. Ma insomma, due interviste, quella del Cavaliere a Sallusti e quella di Salvini alla stampa con la Chirico. Quella di Sallusti dice due cose sostanzialmente che parteciperà alla grande manifestazione del 19 ottobre qua a Roma, anche lui personalmente, contro il governo delle tasse e che se vincerà il centrodestra nelle regioni, il governo deve portarli ad elezioni. Velletario, secondo me, è credere che si possa dare elezioni per una semplice vittoria nelle regioni, anche se quello certamente la vittoria in Umbria, non parliamo in Emilia Romagna, oggi la Borgonzoni, candidata della Lega, intervistata da Libero. Se dovessero vincere queste regioni, qualche casino all'interno della compattezza del governo ci sarebbe. Salvini, invece, oggi sulla Chirico, sul Foglio, la Chirico lo fa diventare filo-atlantista, filo-europeista, filo-euro, cioè un Salvini 2.0. Questa sera gliene chiederò conto alla intervista che gli faccio a Quarta Repubblica in apertura questa sera alle 9.30, perché è un Salvini super-europeista-atlantista, secondo quello che esce dal Foglio. E la Chirico gli chiede anche conto del Russiagate suo e di Conte, in cui, per quanto riguarda il suo, dice, non ho preso una lira e non c'è nessun aspetto, per quanto riguarda quello di Conte, dice, non capisco perché non risponda velocemente alle domande che gli hanno fatto. Insomma, si danno un po' le mazzate Conte e Salvini, vicendevolmente. Provincia Autonoma di Bolzano ha deciso di chiamarsi Provincia Autonoma di Bolzano, ha deciso di rispolverare il nome su Tirolo, che peraltro è previsto da Costituzione, ma cancellare quello di Alto Adige, che peraltro è previsto anche quello della Costituzione, il pezzo più interessante è quello di Farina, controintuitivo, dice, ragazzi ce la siamo presa nel 1918, questa zona in cui c'era il 90% dei tedeschi, lasciavoli almeno la possibilità di chiamarsi su Tirolo, che è il loro vero nome. Insomma, invece tutti gli altri giornali hanno un piglio più nazionalista e più di difesa dell'italianità spesso calpestata in quelle zone. Questa sera, Quarta Repubblica, le 21.30 con Salvini, ma ragazzi mancano quanti giorni? Oggi che giorno è? Oggi manca una settimana all'uscita del mio libro. Le tasse invisibili, chiamate la nave di Teseo, chiamate Amazon, chiamate la vostra libreria, anzi chiamate le vostre librerie. Per favore, dovete chiamare le vostre librerie. Quando esce il libro di Porro e portarvi a casa una copia, perché sono certo che le copie andranno, non saranno 100 miliardi come un libro di Dan Brown, quindi se le prenotate ve le portate subito a casa. Ciao!